Ogni cittadino può contribuire a contrastare la dengue, infatti tenere basso il numero della popolazione delle zanzare è la misura più efficace nella lotta alla diffusione del virus che nelle marche ha contagiato 36 persone. Per un'azione completa però è fondamentale la collaborazione di tutti affinché ognuno intervenga nelle aree private. Tra i casi segnalati a Fano, ad esempio, diversi sono stati registrati nel quartiere Vallato proprio perché le zanzare tigre hanno trovato le condizioni ideali per proliferare. A spiegarcele è il medico veterinario Stefano Gavaudan, dirigente dell'Istituto Zooprofilattico Umbria Marche, istituto che tra le altre cose si occupa di istruire gli operatori delle AST, informare la popolazione, fornire il materiale necessario, organizzare interventi di emergenza e analizzare gli insetti, i vettori della dengue e i patogeni. Inoltre in diverse zone di Fano sono state installate delle trappole specifiche per le zanzare al fine di controllare quante sono e se sono infettanti. Stefano, dove possono trovarsi i focolai larvali, ovvero le uova delle zanzare nelle abitazioni private? È assolutamente importante, prima ancora dei trattamenti antilarvali, eliminare i focolai larvali. I focolai larvali sono quelle piccole raccolte d'acqua che contengono tutti gli stadi di sviluppo della zanzara tranne l'adulto che ovviamente è in aria. L'eliminazione dei focolai larvali è di assoluta importanza perché la gran parte sono all'interno delle abitazioni private, nei giardini. Perché sono i tombini, perché sono i sottovasi, perché sono i secchi per l'irrigazione, gli innaffiatoi e tutto ciò che in qualche maniera può contenere anche piccolissime raccolte d'acqua che se rimane lì per almeno 6, 8, 10 giorni può dare origine a uno sfarfallamento di zanzare. Allora queste raccolte d'acqua vanno assolutamente eliminate, se non è possibile eliminarle vanno coperte con coperchi o con zanzariere perché se non entra l'insetto adulto lì non va a deporre uova. Se questo non è possibile a quel punto si tratta come mettendo ad esempio nella fontana i pesci che si nutrono di larve ma anche utilizzando dei prodotti larvicidi che quindi non interferiscono con tutti gli altri insetti e ce ne sono di diversi tipi, anche di tipo biologico che possono essere utilizzati per le acque che poi vengono ad esempio, possono essere utilizzate dagli animali per bere. I prodotti biologici sono assolutamente innocui come il Bacillus thuringiensis, per ad esempio uccelli o mammiferi che si abbeverano in quell'acqua. Quando si dischiudono le uova? Dopo quanto tempo? Il tempo di schiusa delle uova può essere nel periodo invernale molto lungo, mentre nel periodo caldo il ciclo biologico può essere completato anche in 7-10 giorni, quindi dipende dalla temperatura e dell'umidità. Cosa fare per eliminare le larve? Ogni raccolta d'acqua va svuotata, è ovvio che non tutte le raccolte d'acqua possono essere svuotate perché ce ne sono alcune che sono funzionali alle nostre attività di giardinaggio, per abbeverare gli animali e quant'altro. Ciò che non è possibile eliminare, togliendo i sottovasi, ribaltando i bidoni e svuotando gli eventuali contenitori, quello che non può essere eliminato va in qualche maniera coperto fisicamente con un tappo o con una zanzariera che impedisce alla zanzara adulta di entrare e deporre le uova sul pelo dell'acqua. Non tutti i contenitori possono essere ovviamente protetti da zanzariera o da coperchio. Allora in questo caso e solo in questo caso si può passare quindi ai trattamenti, probabilmente i più efficaci sono quelli di sintesi chimica, che comunque hanno un impatto ambientale molto molto basso perché ovviamente vanno a colpire solo le larve presenti all'interno di quella piccola raccolta d'acqua, quindi non interferiscono con la flora presente e con gli altri insetti. Quindi questa è la modalità razionale di intervento. Ovviamente ci sono delle raccolte d'acqua che vengono utilizzate per innaffiare gli orti, che vengono utilizzate per abbeverare gli animali eccetera. Quindi abbiamo anche dei prodotti biologici, diciamo che quelli di sintesi hanno una durata di 20 giorni sempre che non ci siano piogge che poi dilavano appunto il prodotto. I biologici hanno una durata di qualche giorno inferiore, però possono essere utilizzati efficacemente. Ma ad esempio adesso abbiamo anche dei prodotti fisici che sono dei film siliconici, cioè sono dei liquidi che vengono versati nella raccolta d'acqua, anche in grandi estensioni di acqua, e creano praticamente un film invisibile che non interferisce con la fauna presente all'interno dell'acqua, ma impedisce alle larve che respirano a galla attraverso una sorta di boccaglio che si chiama sifone, di appunto respirare, ma il film è veramente di poche frazioni di millimetro, e in questo modo impedisce lo sviluppo larvale. E che cosa possiamo fare per proteggerci dalle punture delle zanzare? Sì, la zanzara tigre innanzitutto punge nelle ore non più calde, ma nelle prime ore e nelle ultime ore del giorno, e è particolarmente attratta dagli abiti scuri, quindi quello che possiamo fare è utilizzare abiti lunghi, chiari e anche larghi. E ovviamente sopra gli abiti, utilizzando questo tipo di abiti, possiamo anche utilizzare repellenti, in maniera tale di evitare di utilizzare i repellenti direttamente a contatto con la cute, che è preferibile sicuramente. La dengue, come spiegato dall'esperto, è diffusa in tutti i continenti, soprattutto in Asia e in America, a causa delle condizioni climatiche e delle tipologie di zanzare diverse. Ogni anno in tutto il mondo si contano 180 milioni di contagi. È importante sottolineare che c'è un periodo di incubazione, 10 giorni per le zanzare dal momento in cui pungono una persona infetta e 7 giorni per l'uomo dal momento in cui viene punto. La disinfestazione andrebbe fatta nel mese di aprile, cioè da quando le temperature iniziano a superare i 15 gradi. E i prodotti per uccidere le larve, i larvicidi, sono dannosi per l'essere umano, gli animali o le piante? No, sono assolutamente poco dannosi e comunque anche per, ad esempio, essere inseriti in acqua e che utilizziamo per, ad esempio, irrigare l'orto, possono essere utilizzati dei prodotti biologici, come ad esempio il bacillus thuringiensis, che non hanno veramente alcun effetto né sui animali né sull'uomo. Ad ogni modo, anche quelli di sintesi utilizzati nei focolai larvali possono essere resi inaccessibili dagli animali. Comunque tutti gli animali superiori sono veramente poco suscettibili all'uso dei larvicidi. Quando non utilizzare il larvicida? I larvicidi, ovviamente, sono suscettibili, ad esempio, alle piogge o alla presenza di un elevato carico organico nella raccolta d'acqua, quindi, ad esempio, i tombini devono essere puliti dalla sporcizia, dalla raccolta di materiale organico e ancora, se ci sono piogge, ovviamente il trattamento va ripetuto. È assolutamente fondamentale il controllo dei condomini e dei giardini privati, perché altrimenti le azioni operate dai comuni rischiano di essere del tutto insufficienti, perché la gran parte dei focolai larvali si trovano nelle pertinenze private dove il comune non può entrare.